Grazie Ciao 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 matto se ogni testo parto astratto sto in bilicco dall'alto romanzo fritto mistico sul piatto fritto mistico gli avvisi se precisi e su un lato artistico e vien pora con te sei in crisi fa come Erma e Calibrisi niente sempre caldo l'olio con te frisi ciao Calibra vai siamo forti grazie